Salve a tutti, oggi un nuovo video su questo bellissimo materiale che è appena arrivato da Simone www.creativamenteprot.it ed è un materiale per fare principalmente gioielli però io l'ho usato nello scrapbooking, è da un po' che lo conosco e a me è sempre piaciuto tantissimo perché fa degli effetti bellissimi, si può stampare, si può colorare con diversi tipi di colore, si può timbrare insomma è molto versatile e questo è una plastica termo restringente, in pratica si restringe col calore e si chiama Polyscreen o Screen Plastic vi farò vedere come costruire dei ciondoli ora vi faccio vedere quello che contiene la scatola nella scatola trovate tutto l'occorrente per costruirci un bracciale o una collanina abbiamo anche le pinzette e abbiamo i fogli, ce ne sono tre bianchi così ma so che ne esistono anche trasparenti perché io usavo anche quello trasparente o nero e poi questo che è satinato, anche questo fa un bellissimo effetto ora passiamo dall'altro visuale e vi faccio vedere come costruirci i nostri gioielli e tagliarli con la silhouette bene, ora che abbiamo visto il materiale che andiamo a usare per questo progetto e cioè quello per fare gioielli iniziamo con il software a costruirci i nostri ciondoli premetto prima di tutto dovete fare l'aggiornamento se non l'avete già fatto al software perché ci serve quando andiamo a tagliare questa scritta qua vedete? screen plastic cliccando qui lui vi da le impostazioni che ci vuole per questo tipo di materiale qui vi da la lama nera ma io userò quella autoregolante che è nella Cameo 3 bene, partiamo dall'inizio ora dobbiamo costruirci come ho detto i nostri ciondoli quindi siccome siamo in tema di San Valentino farò dei cuori e una scritta apro un nuovo documento, prendo l'opzione elisse e mi disegno un cerchio di questo cerchio lo devo trasformare in cuore quindi come faccio? devo prima cosa modificare i punti vado sull'icona modifica punti clicco sul mio cerchio e vedete che ha messo i quattro punti da modificare ma essendo un cuore a me me ne servono due in più quindi ne faccio uno qua e uno qua porto questo al centro cioè non al centro diciamo un po' più in giù poi lo faccio in punta e ora vado a modificare questi faccio anche qui la punta ok e modifico questi in modo da fare più rotondo possibile perché altrimenti quando vado a tagliare si vedono le punte e non è bene ora possiamo decidere se farlo pieno oppure vuoto se lo vogliamo fare vuoto dobbiamo dare un offset cliccando sul sul cuore diamo un offset interno o esterno secondo dove volete proviamo esterno e diamo un valore per dire 10 vedete e qui sarà vuoto e qui verrà poi colorato siccome io invece lo voglio pieno non faccio l'offset quindi tolgo questo perché non mi interessa anzi scusate ritorno indietro perché altrimenti mi è rimasto questo qua devo togliere ok poi dovete sapere che questo tipo di materiale quando verrà riscaldato per farlo diventare ciondoli in plastica dura si ristringe circa del 45 per cento adesso vedendo questo cuore calcolando il ristringimento verrà pressa poco questa misura qua su per giù adesso non ho fatto i calcoli ben precisi però per farvi capire di quanto dovete inizialmente fare il disegno dobbiamo fare il cerchietto in modo da avere un bucanino per poi mettere il nostro gancino che va attaccato al bracciale quindi prendo ancora l'elisse faccio un cerchio lo metto pressa poco in questa maniera qua e qui gli do un offset interno e metto valore proviamo 5 conto viene ok ok tolgo un attimo perché ora seleziono tutti e due vado nella nella finestra modifica e faccio salda prendo il mio cerchietto e lo posiziono in questa in questa maniera qua ora seleziono tutto e faccio crea tracciato perché io voglio riempirlo di rosso ma questo bucanino qui deve rimanere vuoto quindi vado ora su riempimento mettiamo una texture ok metto questo perché mi piace come come sfumature tanto poi verrà stampato quindi verrà stampato così ah io vi dico già che stamperò e la mia i miei ciondoli e poi li taglierò con il pixcan perché con i croccini diciamo è un po' più complicato e molte utenti ho visto che hanno dei problemi quindi io metterò come ho detto il pixcan ora lo rimpiccioliamo possiamo rimpicciolirlo sia dal dalla finestra scala se vogliamo provare proviamo un lo rimpiccioliamo di 80 proviamo scusate scusate si ok io lo faccio di questa misura qui 9 cm 91 mm sarebbero 9 cm considerando che poi dopo viene ristretto ora prendo voglio formare la parola come ho detto love visto che siamo per San Valentino mi cerco ho un font questo font mi può andar bene ora io seleziono tutta la parola perché devo ravvicinare le lettere altrimenti quando vado a tagliare me ne taglia una per una io questo non voglio perché voglio la parola attaccata vorrei lavorare da queste finestre qua ma preferisco lavorare una per uno quindi faccio separa mi ha separato ogni parola quindi io adesso cerco di attaccarle o col tasto direzionale in questo modo così non viene né troppo né poco e metto come voglio ok ora vediamo se mi prende la parola quindi vado sempre finestra modifica e faccio salda ed ecco qua che mi ha attaccato tutte le parole ora dobbiamo farlo un pochettino più grande perché come ho detto già riscaldandosi poi viene molto piccolo quindi cambiamo i valori e proviamo a mettere anche questo 90 e facciamo inserire lasciando blocco aspetto selezionato quindi ora dobbiamo mettere anche qui un'elisse per mettere poi il gancino quindi disegno la mia elisse avvicino come credo che stia meglio gli do un offset sempre interno 5 perché anche questo una volta che viene che viene riscaldato comunque viene piccolo anche questo ora tolgo questo seleziono tutto vado sempre su modifica e faccio salda ok prendo il mio poi vedete che qui mi è rimasto un pezzettino che non va bene perché altrimenti mi taglierebbe ora riseleziono e crea tracciato perché dobbiamo andare a riempire anche questo di colore anzi mettiamo se un'altra texture quindi andiamo su texture possiamo rimettere la stessa oppure selezionarne un'altra a nostro piacimento comunque dove vediamo questo questo che sembra una maglia può andar bene ah io non vi ho detto se volete tagliare l'immagine così oppure con un bordino allora io preferisco tagliarlo così e taglio vicino al bordo se volete tagliare con il bordo dovete metterci comunque un offset esterno mettete della grandezza che volete mettiamo quattro e facciamo inserire e qui quando vi taglierà taglierà questo bordo qua ok? io come ho detto non voglio tagliare nessun fare nessun bordo quindi lo taglio direttamente pari questo lo tolgo e faccio ora dobbiamo fare i pezzi quindi facciamo duplica e ne metto un altro facciamo tre oddio scusate ne faccio tre e ingrandiamo un po' la scritta quindi posso usare le maniglie oppure sempre dalla finestra scala e lo voglio mettere diciamo 10 centimetri quindi dovremo segnare 100 e ora io andrò a stampare mi raccomando se avete fatto l'aggiornamento queste saranno le impostazioni io per adesso lascio tutto come sta perché è la prima volta che faccio questo che uso questo materiale quindi non so se possono andare bene queste impostazioni o meno però in genere io fino ad ora ho sempre lasciato le impostazioni che mi dava il sistema e sono sempre andata bene però è da provare quindi vado a stampare ma ricordatevi di impostare il taglio in questa con lo strumento 1 perché avremo una sola lama io sto parlando della cameo 3 chi ha la cameo 2 logicamente non avrà i due strumenti bene ora passo dall'altra visuale e vi faccio vedere il taglio non vi sto a spiegare i passaggi del pic scan perché ho fatto un video quindi ve lo andate a vedere è nel mio canale e vi faccio vedere il taglio e la costruzione comunque del del braccialetto bene io ora mi sono messa il tappetino ho preso il tappetino pic scan ho messo la mia immagine come vedete e ho fatto il procedimento che ho insegnato anche in un altro video proprio come usare il pic scan io vado meglio con questo perché mi taglia perfettamente e allora io ho stampato questo con la mia stampante e ho messo epson matt perché è una carta speciale e ho stampato ed è venuto così ora tagliamo ora metto il tappetino facciamo la carica chiudo ora mi sta leggendo i crocini mi sta si sta autoregolando sentite e ora sta togliando e ed ecco che ha finito ora facciamo scarica vedete scusate che da vedete e piano piano tolgo anche la scritta love piano 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 ed ecco qua la scritta questo mi raccomando quello che è rimasto non buttatelo perché c'è anche altre si possono fare altre scritte altre cose mi raccomando ora questo qui dobbiamo andare a col calore a restringerlo si può mettere sia nel forno che con lit gun io preferisco farlo con in forno perché viene più compatto una ve la faccio vedere però con lit gun perché nel mio forno non c'è la luce quindi non vedete di quanto si restringe uno con lit gun e gli altri li mettono nel forno così vediamo anche la differenza ok ok ora vi faccio vedere con questo qui che mi è venuto diciamo tagliato male perché avevo sbagliato io quindi facciamo una prova con questo quindi vi faccio vedere in questo che potete usare sia questa che il forno a volte preferisco il forno perché viene molto più compatto il disegno viene non si brucia il colore e via di seguito ora vi faccio vedere vi dovete anche munire di uno di questo qui in plastic glass è quello che serve per fare i timbri perché poi una volta che abbiamo che abbiamo riscaldato dobbiamo schicciare per usare questo dovete avere anche qualcosa per tenere fermo perché altrimenti vi bruciate le mani e adesso vi faccio vedere ok una volta che ha finito di di ristringersi io lo schiaccio con questo lo tengo un attimino così in modo da farlo venire bello steso vedete e questo è un ciondolino questi ecco vedete sono è venuto un po' grandino ma a me piace anche così però sappiate che dalla misura che fate poi dovete calcolare che viene 45% più piccolo quindi fate voi conti di come volete grande il vostro ciondolino ora vado a fare anche gli altri poi vedremo come vengono quelli nel forno e andremo ad assemblare il nostro braccialetto ed ecco qua il nostro braccialettino adesso metto l'ultimo cuoricino stringo ed ecco qua il nostro braccialetto ed ecco qua vedete il nostro braccialettino quella scritta lo vedete bellissimo è un materiale molto bello che si presta tante cose diciamo io ho fatto a fare sia braccialetti che scritte per lo scrapbooking nel prossimo video vi farò vedere un altro modo di stampare i ciondoli li faremo con i timbri e poi li andremo sempre a tagliare con la silhouette sempre col pixcan potete anche alla fine di cottura o quando abbiamo già ristretto possiamo dare anche una mano di lucido per rendere più glossi i nostri ciondoli effetto lucido per esempio tutto il materiale che abbiamo visto lo trovate su creativamenteplotter.it il sito di Simone e andate a visitarlo ha molte cose nuove per il resto è tutto spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato di aiuto e ciao al prossimo ciao 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 Grazie a tutti